Un 29enne tarantino, un martinese cinquantenne, arrestati. Il risultato di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, è eseguirla ai carabinieri del nucleo investigativo di Taranto. I fatti risalgono al 2023, quando il 29enne, in piena notte, sarebbe andato presso l'abitazione della vittima e dopo averlo minacciato e percosso, contro la sua volontà lo avrebbero condotto a Taranto, all'interno di un garage, dove avrebbero continuato a percuoterlo per liberarlo solo qualche ora dopo, nei pressi di un distributore di carburanti del quartiere Paolo VI. La vittima, un 35enne, sarebbe riuscita a tornare a Martina Franca, dove i carabinieri della locale compagnia, già allertati dalla compagna della vittima, lo rintracciarono mentre vagava lungo le vie del centro abitato e, constatando le evidenti lesioni al volto, lo accompagnarono al pronto soccorso. Secondo le minuziose indagini dei carabinieri e testimonianze, gli indagati avrebbero agito con la finalità di estorcere alla vittima la somma di 15.000 euro, pretesa a compensazione del rifiuto di portare a termine una truffa ai danni di una società di noleggio auto. In pratica, la vittima avrebbe dovuto prendere in locazione un'auto per poi denunciarne falsamente il furto, al fine di smontarle e rivendere i singoli pezzi sul mercato dell'usato. Per il 29enne Tarantino contestati anche i reati connessi allo spaccio di droga, mentre un'altra persona risulta indagata.